Piove! Non piove più! Piove! Bella! Piove! 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 Non piove più! Piove! Piove! Adesso sì! Adesso sì! Mi piace, sì. Bruta! Sei brutta! Per il loro cuore, si dirà così. Bruta! Per il loro cuore, si dirà così. Perché vede sopra quell'altra cruz che è fatta l'aria, ma pur sempre fuori per rispetto alle sfere concentriche che la Terra contiene, e a chi vive come me negli intervalli tra una sfera e l'altra, perché la Terra dentro non è compatta ed è discontinua fatta di bucce sovrapposte. di densità diversa. Fin giù al nucleo di ferro è mica, che è anche quello un sistema di nuclei uno dentro l'altro, l'uno ruota indipendentemente dall'altro a seconda della maggiore o minore fluidità di elemento. Vi fate chiamare terrestri e non si sa con che diritto, perché il vero nome è nostro. Lo sarebbe esso che la Terra contiene che si può essere più vero, e come la Terra, e quindi il maggior punto che la Terra contiene, che la Terra contiene, a seconda della maggiore, e quindi la Terra contiene.